Il consigliere comunale è uscente dell'NCD, ma è giovane presidente della Commissione Bilancio del Comune di Frascati, credo sia un ruolo piuttosto delicato e importante. Da ultimo, Massimiliano ti puoi avvicinare? Ma non ultimo, sindaco, non ultimo. Massimiliano lo conoscete tutti? Ah, che saranno i primi. Bravo, a te. Rapidissimamente un saluto, in tempi non sospetti io personalmente ho abbracciato, diciamo così, Alessandro come... Tutti, Massimiliano, grazie. ...come a te, era triste questa cosa, però come le donne, no? Quindi il progetto di Alessandro, in questa nuova tornata elettorale non potevo che non non è riabbracciare questo viaggio con l'onere, diciamo, di rappresentare un partito che è appunto Fratelli d'Italia. Sono estremamente soddisfatto perché comunque sia un gruppo di amici che incontro e ritrovo sempre, sono, ribadisco, estremamente felice. Non sto qui a criticare l'operato di questi anni perché ora abbiamo detto tutto e conosciamo tutto. Lo scopo fondamentale è quello di dare supporto a quella che in tempi non sospetti già per me era l'unica certezza o comunque risorse del territorio e non perché sono un devoto di Alessandro Adotti ma perché ritengo che non abbiamo nient'altro in questo momento e quindi sono qui, diciamo, a sostegno di questa candidatura e di quest'altro viaggio cercando di dare il massimo supporto con questa nuova retta sul territorio appunto a Fratelli d'Italia e cercando di essere, come dire, d'aiuto, di supporto e attenti a tutto quello che praticamente dovremmo fare. Conosciamo perfettamente quello che dobbiamo fare e praticamente non fare quello che hanno fatto gli altri ma bensì cercare di dimostrare di essere più capaci perché dopo 20 anni praticamente di amministrazione, una giusta e democratica d'azione ci deve essere anche per dimostrare fondamentalmente di essere più capaci. Quindi un saluto, un bocca al lupo per questo nuovo viaggio, ringrazio gli amici storici che sono venuti in questo nuovo progetto e vi lancio un appuntamento per il mercoledì 23 aprile alle ore 20 all'hotel Flora dove ci sarà Giorgia Medoni e quindi chi ha interesse e vuole praticamente venire e partecipare è ben invitato insomma. Buon lavoro a tutti.